in questo video vi farò vedere come fare un coniglietto porta doceti fatto con materiale che avete sicuramente in casa guardate che carina potete mettere dei cioccolatini o caramelle o quello che preferite potete regalarlo ma è così carino che sono sicura che ne vorrete uno anche per voi è un bel regalo da fare ai vostri cari e oggi lo vado a portare alla mia cara amica signora cesarina e se volete fare questo trucco per fare il vostro regalo per pasqua vi lascerò anche il link nella descrizione andiamo adesso vi farò vedere come fare questa simpatica coniglietta e alla fine del video come bonus che saranno i dettagli degli altri coniglietti iscrivetevi nel canale grazie e buona visione Grazie a tutti. 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 a tutti.